Ciao ragazzi, oggi vi voglio raccontare un progetto per le vostre Alfa Voice U30, ma in realtà anche per molte altre tampanti 3D che vi farà risparmiare, uno, un sacco di correnti e due, vi farà risparmiare quel rumore della ventola dell'Alfa Voice U30 Pro che è veramente assordante. Sì, stiamo parlando dello spegnimento automatico e andiamo a vedere come lo realizziamo. Allora, prima di tutto quello di cui avremo bisogno è semplicemente un fine corsa, come quello che si trovano, no? Negli asse Z, X e Y. Una quarantina di centimetri di cavo che possa supportare la corrente che passa nella Alfa Voice U30, quindi mi raccomando non usate, che dico, i cavetti di Arduino per esempio, non usate un cavo un bel po' più spesso e poi vabbè qualche attrezzo così, un saldatore, eccetera. Allora, lo schema elettrico è questo, ma che cosa succede in realtà? Il fine corsa è posizionato alla fine dell'asse Z, alla fine dell'asse Z. Quando finisce una stampa ho detto su Cura, che è il mio programma di slicing, di portare la temperatura del nozzle a 55 gradi e dopo aver fatto questo deve portare tutto il carrello dell'asse Z in alto alle coordinate di 250 mm, in modo tale che non perdo niente, perdo solo ed esclusivamente l'ultimo layer di stampa. Il fatto sta che quando il carrello va a premere il fine corsa, si interrompe totalmente il contatto della 230V e la stampante si spegnerà non dalla 24V che arriva dall'alimentatore, ma si spegnerà proprio come se tiraste la spina. La prima cosa da fare è ovviamente collegare il fine corsa a uno dei due fili della rete elettrica, quindi che sia fase e neutro, ma in realtà non cambia niente perché comunque la presa, come la mettiamo e mettiamo, sempre quello, la corrente alternata perlomeno funziona così. Ma anche per la corrente continua o lo mettete su positivo o negativo, se lo volete fare a caso mai dopo l'alimentatore a 24V va bene lo stesso. Collegate ora questo filo tagliato al comune e dal normalmente chiuso del fine corsa fatelo riscendere fino al neutro o fase dell'alimentatore, dipende da quale cavo avete staccato. Il gioco è fatto, ma ora passiamo alla parte software in cura dove che cosa dovete fare? Dovete aggiungere questi comandi qui che sono sottolineati nelle impostazioni della vostra macchina su cura e che cosa fanno questi comandi? Fanno, prima di tutto, come ho detto prima, arrivare la stampante a 55 gradi, in modo tale che la ventola dell'hotend continui a raffreddare il gruppo appunto dell'hotend senza che gli togliamo assolutamente la dissipazione all'istante e poi parte la stampante a una velocità che adesso non ricordo qual è, mi sembra 120 mm al secondo, parte in salita fino ad andare a premere il fine corsa e aprire il contatto e quindi praticamente tirare la spina. Ma vi starete chiedendo, ma il fine corsa come lo faccio a far reggere? È per questo che in descrizione trovate un link a Thingiverse di un progetto che ho fatto io. Quindi mi piacerebbe molto se, per esempio, andaste sul gruppo, andaste a commentare quel progetto così vedo quanti di voi hanno fatto e questo mi farebbe un sacco piacere anche del fatto che vi ho potuto aiutare in una cosa. Per quanto riguarda come proprio avvitarlo vi servirà un dado e un T dado, un T-NATS. Per questo io ho fatto prima, ho semplicemente svitato una delle due viti del portafilamento perché ne bastava una in realtà e ho usato quella con il suo dado T per attaccare il fine corsa proprio all'altezza di 250, come ho fatto io. Sono andato, ovviamente, prima di posizionare il fine corsa, vi dovete assicurare che arrivi appunto a coordinate 250, quindi portate la stampante dall'interfaccia alle coordinate appunto di 250 mm e poi la posizionate il fine corsa affinché senti il click del fine corsa, avvitatelo e il gioco è fatto. Ovviamente io lo devo dire, stiamo parlando con tensione di 230 volt, quindi state molto attenti a quello che state facendo. Un'unghia che va a toccare quel filo e voi siete carbonizzati. Quindi ovviamente prima di fare questo staccate la spina perché non c'è necessità di avere la stampante accesa quando andiamo a fare questa operazione. Lo so che è quasi inutile che io ve lo dica perché siete abbastanza intelligenti da capire che è logico levare la spina. Però ve lo devo dire, mi sa che c'è scritto anche su il regolamento di YouTube che se un creatore fa un tutorial su un qualcosa che potrebbe essere pericoloso bisogna avvisare il pubblico, eccetera. Quindi io ve l'ho dovuto dire. Per il resto che cosa succede? Quando finisce la stampa il progetto è pronto, voi ve lo staccate e intanto ve ne andate anche nell'altra stanza tanto la stampante si spegnerà da sola. Per riaccenderlo che cosa fate? Prendete il carrello e lo abbassate fino a giù. Di all'incirca 2 cm, non di meno, in modo tale che la stampante si accende. Perché ho detto non di meno di 2 cm? Perché quando inizia una stampa, di solito, per andare alla home la 6Z si alza di 10 mm e poi riscende. Questo è stato fatto per non toccare il piatto, eccetera, per non graffiare il piatto qualora si dovessi trovare proprio lì sul piatto l'ugello. Quindi se state a 2 cm, ma anche 1,5 cm, o sempre più di 1 cm, vi troverete bene e non spegnerete la stampante accidentalmente. Benissimo, sono contento di aver fatto questo video perché so che vi piace l'argomento della Fawai su 30 Pro L'Alfawai su 30, Longer, LK4 Pro, come quello che ho preso io. E l'ho visto dall'ultimo video dell'Alfawai su 30 Pro che ha raccolto un sacco di visualizzazioni, non me lo sarei mai aspettato. Ha superato in una settimana tutte le visualizzazioni che ho fatto in un mese su quest'altro canale YouTube che si chiama Pronto CGI, che è il mio secondo canale YouTube. Saluto tutti i membri del gruppo Alfawai su 30 Uenti su Facebook, su cui condividerò questo video e vi aspetto giovedì prossimo con un altro video. Grazie a tutti.